Sport e vita vissuta, questo in sintesi il riassunto del documentario monologo Lo sport di vivere presentato sabato scorso a cura del giornalista Carlo Nesti a Loreto Aprutino. L'essenza dello sport di vivere è infatti quella di raccontare emozioni e sentimenti attraverso gli eventi sportivi ed è proprio tramite parole, immagine e musica che Nesti ha provato a unire insieme questi due aspetti. Nasce così, da una scommessa, dimostrare che non soltanto con i libri, con le poesie, con i quadri, con le sculture, con le canzoni si possono esprimere i sentimenti, gli stati d'animo della nostra esistenza ma anche con i personaggi e con i fatti dello sport. L'occasione è stata anche il portare a Loreto Aprutino dove hanno raccontato la loro esperienza i ragazzi dello spogliatoio della Juventus degli anni 70 da Luciano Miani a Dario Tosetti, da Beppi Pilon a Massimo Briaschi a Paolo Bordoni e altri ancora. Il tutto ha avuto origine dalla pallone di pezza, ideato dai bambini della scuola primaria di Loreto Aprutino ed esposto a Torino al log di Alessandro Del Piero dove Renato Mariotti lo ha portato insieme ad altri oggetti del calcio del passato. È un progetto che parte già da alcuni anni in quanto io come rappresentante della locale squadra di calcio, l'essere di Loreto come Luciano Miani, come rappresentante del River 65, stiamo cercando di spiegare ai ragazzi quello che è il vero calcio perché il vero calcio non è quello che i bambini purtroppo oggi sono abituati a vedere in televisione o a guardare in televisione. Una manifestazione questa fortemente voluta dal sindaco di Loreto Aprutino Gabriele Starinieri e dalla sua amministrazione. Tutto è partito da qualcosa che nasce a scuola e che va a riguardare lo sport come scuola di vita e quindi i valori delle relazioni umane nello spogliatoio. Sono presenti tantissimi ragazzi, bambini che frequentano tutti i settori giovanili di ogni sport.